Sapete cosa fa la Rete Alta Tecnologia dell'Emilia-Romagna? La conservazione dei cibi è importante. Sara e Marco lo sanno e vogliono costruire il packaging perfetto che garantisca freschezza, protezione e i massimi standard di igiene alimentare. Chi può aiutarli? In Aster c'è la risposta alla loro necessità. Con un semplice clic accedono alla Rete Alta Tecnologia dell'Emilia-Romagna, dove grazie alla ricerca industriale, ai laboratori della rete e ai professionisti che operano nel campo della sicurezza e del controllo qualità creano una partnership vincente tra ricerca e impresa che li aiuterà a raggiungere il loro obiettivo. E tu, cosa aspetti? Per trovare la risposta alle tue esigenze tecnologiche, guarda dentro la Rete www.aster.it